Buongiorno, mi chiamo Mesturini Andrea, lavoro per il Consorzio di Comuni Acquadotto Monferrato e sono presente a questo evento organizzato a Ravenna sull'altra scuola dell'acqua. Trovo che sia un evento importante dove tutti i gestori dovrebbero prendere spunto per migliorare e analizzare, in primis analizzare e conseguentemente migliorare l'efficienza della propria gestione in quanto i margini e i recuperi che possono essere effettuati in ogni sistema sono importanti con dei ritorni in tempi brevi.